Protezione civile buongiorno. Sostegno alla popolazione, in particolare a tutti i cittadini in quarantina o in isolamento e di conseguenza bisognosi di supporto materiale e morale. È il ruolo dell'Infopoint di protezione civile attivo in piazza San Francesco a Biceglie. A illustrare le caratteristiche del servizio è il volontario Giulio Cangelli. Ci sono persone che sono in quarantina e ci richiedono come poter fare spesa. Noi organizziamo il ritiro della loro spesa e la portiamo a domicilio. Poi ci sono richieste di farmaci e altrettanto facciamo per questo. Abbiamo collaborazione con la Caritas per cui passiamo tutte queste richieste per il sostegno alimentare. C'è anche il supporto psicologico che viene svolto dai psicologi. La seconda ondata della pandemia sta colpendo in maniera più significativa la provincia di Barletta-Andreatrani. Per questo motivo l'impegno dei volontari si sta rivelando ogni giorno sempre più probante. Sono aumentate persone che vengono direttamente a chiedere informazioni per quando riguarda le richieste dei buoni spesa del recente bando comunale e ultimamente sono aumentate le richieste come dicevo prima per il sostegno alimentare. Vengono personalmente qui all'Infopoint per richiedere sostegno. 080 336 6621 per contattare il posto fisso Infopoint. 348 521 6286 per il supporto rapido e 342 999 0905 per il supporto psicologico. Questi sono i numeri di riferimento a cui rivolgersi. Qui all'Infopoint si svolge dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Poi c'è un numero dove si può richiedere 24 su 24. L'appello alla popolazione è a rivolgersi all'Infopoint e dei volontari al lavoro per sostenerla in un momento delicatissimo e anche a ridosso di un periodo particolare come quello natalizio. Di rimanere a casa e per qualsiasi informazione noi siamo a disposizione per tutto. Cerchiamo la scelta di rimanere a casa e che in un modo quasi perfetto. Con un modo di rivolgersi all'Infopoint.